Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati. Allora, mi sono riteletrasportato qui a Magiula perché oltre ai due falò che abbiamo acceso buttandoci da là sotto al pozzo mi sono ricordato che noi prima dobbiamo fare un'altra zona e quest'altra zona dovrebbe attivarla la tipa qui. Questa truffatrice che ci farà girare il percorso. Salve, due vie con i miracoli. Allora, questo oggetto non ce riguarda niente. Sposta il percorso, lei vuole duemila e gli edo vi abbiamo da e lei ce lo sposta che in realtà non è un miracolo, è una truffa. E ce l'ha aperto il percorso, eccolo là. Ci ha chiuso quello, fai pure dunque, ok. Sì, sì. Sì, sì, grazie. La truffa Aldina. Ok. Qui è il boschetto del cacciatore, se non sbaglio. Qua c'è il tipo. E lì c'è il falò. Oscurità. Sì, per il momento. Poi questo qui praticamente ci farà fare delle missioni. cose, però per il momento no. Boschetto del cacciatore. Ok. Ah, ricordiamoci che io ho preso anche la Glamour. E l'ho potenziata già a più uno. Però ancora non posso, cioè la posso utilizzare ma non adesso perché è più forte addirittura la spada bastarda più cinque, quindi. Poi la Glamour pesa molto di più. Però la utilizzeremo la Glamour. Qua ci sono questi tizi. L'appo l'arangione piccolo. Sì, sì. Uh, vieni. Il veleno. Ah, la farfalla era. Crepa. Se non sbaglio ce n'erano. Eccola là. Ok. C'è più? Pare di no. Pare. Eh, qua sotto c'è una rana gigante. Io sento già i versi. Eccola là, eccola là. Vedi che si vede? allora scendiamo ad orci perché devo capire come scendere se erate qua che mi devo buttare mi percorse da un'altra parte perché io avendo l'anello del gatto mi sa che su questi funghi ci potevamo buttare i funghi e scendere sotto ah qua c'è stata un'altra farfalla e mi muovo come ammazzo questa farfalla mi fa spegnere la torcia e lì ci sono lo vedete che ci stanno le cose da raccattare e come cazzo vado per forza dai funghi qua, là e poi mi fa andare dall'altro lato mi sa che era dai funghi la strada comunque non lo fanno così intanto proseguiamo qua e vediamo ah ok qua mi ricordo brutta zona brutta zona a cazzo si, devo far entrare una luce pure si, si, si e continua a darmi le frecciate che mo vengo pure da te bastardo ok qua si scende qua sotto mi sa che c'è il falò se non erro si ok abbiamo acceso il falò ah ma dovevo bruciare il coso mi sono scordato porca la troia ok e niente ok abbiamo fatto la cosa ma che cazzo ha fatto ma solo è caduto no vabbè Cristo santo ma è una presa per il culo cioè io non ho fatto nulla ma ma porca la puttana ma dai ma come cazzo si fa ma va ma va a fanculo sto gioco del cazzo che io queste rimpiango le figi umane perderle così da da coglioni proprio cioè stavo per attraversare perché ho detto vado qua a prendermi le cose sotto e poi me ne vado e va a fanculo pure tu vabbè devo fare la luce no c'è la luce perché non si vede un cazzo sì sì sto avvenendo eh non mi scendere la massa di te che mi rompe il cazzo tacci tua ah è appeso alzati ok aspetta ma qua sotto no no non si può qua si muore da qui che devo andare questa sembra una porta sembra un passaggio ma la scala ma quello mi sembra un passaggio a me ah sì qua siamo dalla parte di sopra mmm fai ninja fai ma c'è quest'altro eh e come cazzo l'ammazza quello con le frecce vediamo che c'ho qua con l'ammazza da l'ammazza implice sanguinamento e mo un'utilizzo ho punti ok e non lo becca però è caduto sotto mortacci tua e manca il sanguinamento gli ho fatto ma vaffanculo quindi niente devo andare per forza qua e sto dalla parte di sopra ah e qui dove sono entrato eh sono entrato da qua ok qua esce quello ha aperto lui ha aperto ok sotto c'è il falò quello dove cazzo è caduto qui tu eri ma non mi pare che eri tu no qua non si va da qui si va da là si scende ah c'è quello che attaccano e lì c'è il boss l'arena il carro c'è là quello dei cavalli come boss qua ok niente quindi devo ritornare per forza a maciula va peschetta estus eh non ho potenziato l'estus me ne sono scordato quindi no brucia ok c'è la potenziata animella vediamo ma non ci arriviamo 9.3 ce ne vogliono 10.000 ce ne vogliono 10.000 non posso vendere a nessuno e quindi niente ok a riposa a riviaggia e quindi siamo eccolo qua un boschetto del cacciatore vedete che va in ordine rifugio del non morto accesso al ponte quindi un boschetto del cacciatore ma ripartiamo da qua ti aspettavo lo so là sopra qua ci sono dei nemici tosti eh me lo ricordo sta zona non questi qua gretini qua eccolo là dove è la so guarda qua guarda qua c'è sceso qua ce n'è un altro pure tosto e là maledetta farfalla di merda questo cazzo di veleno dove sta dove sta quella falena di merda ah eccola ce l'ho già wow taffanculo eh per il peso non per altro ok prendiamo quello che c'è da via no maledetta puttana no viene qua perché c'è il veleno da per falla e mi rompe il culo poi e prendilo però bastardo di merda vieni guarda sto no sputo sempre deve rimanere ok è figo umano grazie la falena non sta la falena non era qua sotto che ci ha buttato il veleno vabbè ah qua evochiamo pure l'aiuto chi sei ti evoco e viene dai non ricordo perché ce la fai evocare qua c'è un mega boss fight qua qua è presto sposto bene bravo sei arrivato giusto in tempo del mio colpo di grazia ok ma il maromatic cazzo serve non lo so eh la falena è qua sì mi raccomando fai il coglione che è di sotto dai bene qua abbiamo fatto tutto andiamo qua sono entrato l'ho evocato la parte dietro non c'è sta niente vieni vieni fratello qui c'è da fare adesso stava guatto a guatto zitto zitto nascosto sì ha aperto una strada come no va dai una mano o mai guardia basta cioè sto ammazzato tutti io ha aperto il cancello qua qua questo ha fatto guarda quello come scappa questo è per attirarci in una trappola vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua da là coglione lo becchia sto questo cretino che corre che ci porta alla trappola qua ah vaffanculo ma dov'è quello là quello tosto c'è andrà uno tosto ok andiamo su aspetta ci stanno due ponti oltre vabbè che qua ci devo andare però eh io devo raccattare roba eh mi fa capire sto ponte ah eccolo eccolo qua guarda guarda qua bravo ma fallo secco tu bravissimo bravo ora è il timido tanto timido non sei se l'hai fatto secco da solo ok vieni vieni e qua c'è altra roba e qua c'è un altro guerriero di quel ma come l'incargo o interrompe quando ci sono i guerrieri ma vabbè ah è andata uno scheletro eh sì quello è quello del ponte perfetto poi qui c'è altra gendaglia tosta ecco 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 lì là uno alla volta la famo eh ma uno alla volta però è la c'è quell'altro no, fa' un c**o, crepa, bastardo ne manca uno, eh, quello l'ho là sopra ho due, 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 chi scende primo vieni ma scendi tu sai che sono finiti solo lui c'è ah, era quello che vedevo di sopra che io gli buttavo i coltelli gli ho buttato le coltellate dai scendi non scendi ecco la c**o che è scesa la tarazza con c**o ok ma io c'ho l'anello quello si ah, qua siamo al ponte che ci fa andare diciamo alla a boss fight e sotto ci sta il falò qua ci fa andare a metà ah, la boss fight più ci sarà un'invasione eeeh invece dall'altro lato mi ricordo c**o cosa devo fare per primo ora vediamo la missione di quella è finita quindi non ci aiutava al boss e qua siamo qua si va si va da sopra qua eh c**o c**o taci due ok vai polvere d'osso sublime sempre per il per le fiaschette Ok, siamo usciti Adesso Da dove abbiamo aperto il ponte Ci dovrebbe essere Il falò E un NPC pure Qui dentro No, 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 aspetta Dov'era? Qua E' chiuso, mi serve la chiave Porca la troia Possibile che mi serviva la chiave Non si saliva Christopher Mi ricordo allora Ci davano la chiave Qualcuno Ma che ce la dà la chiave La mazza qua si sta Per distruggere Tacci vostri Tacci vostri Qua si scende Un altro ottuto Labyrinth Oh cazzo Matta Ecco Perché con la mazza non ce l'avrei mai fa Chiave della prigione del non morto Ok Perfetto Adesso Andiamo ad aprire la prigione C'è sta il falò Dobbiamo ritornare a Majula Buttare l'osso Così ci ripotenzia Da qua si scende E mi sa che Ha la stessa strada Dalla grotta Ai bastardi Ok Ok Qua ci sono Gli scheletri Qua non sono morti Le suscitano A ricordo Quello scappa Per farci La trappola Ah Quelle Sì 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 Come se mi ricordo Aspetta un attimo Quelle sue Le vasi Sarà una maledizione Vanno distrutti Immediatamente Se no ci maledicono Siamo fottuti E vattene Fanculo Accendi Vedi che resuscita No cazzo Ma c'è qualcuno Che le resuscita Mi ricordo chi Volevo trovare Dove Che è l'oro Ah questo Questo porco E però Levatevi dal cazzo Scendo dopo Perché No questo Accendi Ok Adesso muoiono Era quel pezzo Da merda Che è Io non sono Rasuscitati Ok Quello Scappa Come al solito Il deficiente Corri Corri Coglione Ho ammazzato Tutti Dove cazzo Vai Corri 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 forest Corri 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 Apriamo qui, e qui c'è l'NPC, accendi sto palo un attimo. Il petto è là, quello là. Pate, ecco, sì. E euforia. Sì, grazie, a posto, finito. Ok, e quindi. Aspettate. Un attimo che adesso vediamo, prima di andarci, tanto il falo è acceso. Qua l'ho acceso. C'è da andare ancora là sotto alla rana, eh. E quella, non so già che ci sfonda il culo, però c'è da andare. Scendo qua. E questo è dall'altro lato, è il meccanismo. Quindi, all'altro lato. Da qui. E cazzo. E questo vero. C'era una farfalla che ci faceva il veleno. Dov'è questa bastarda di falena? Qua sotto, dov'era? Eh, sono arrivato qua e ha sputato il veleno. E sopra o sotto? Non lo so. Ah, qua c'è un'imago che ho proposto. Visto, perco. Corri, corre, 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 che il mago ci rompe il culo. Non mi devo ricordare da farsi qua, perché non è che mi ricorda, eh. Allora, qua. Ah, qua sì, cacchio. C'era la boss fight, però. Accesa già. Chi la c'è? Sai che resuscitano? Resuscitano, resuscitano. Devo trovare a quello. Se cadrò sotto, ma non cadono. Devo trovare a quello che li resuscita. Ah, qua c'è la vocazione. Ci aiuterà alla boss fight. Quindi abbiamo il frammento di Estus. E abbiamo trovato pure una cosa per il fuoco. Andiamo qua a scorciatoia, eh. Giusto? Bene, andate. Ma, ma ha fatto lui il Perry? Appare di sì. E niente, andiamo a trovare a quel bastardo. Affigio umano, frecce e pietra. E siamo morti. Ma vaffanculo va. Ma vaffanculo va, porca di... C'è un salto di merda. Beh, me ne frego, perché ho aperto la scorciatoia. Va bene. Quindi, fare una cosa adesso. Tanto può uscire viaggia, maggiola. e facciamo Estus e il fuoco. Allora brucia la polvere. Perfetto. Trovando il fuoco. Sì. Ce l'ho ancora? No. Ok. Ritorniamo là. Qui era. Non mi ricordo. Vediamo se era qua, cacchio. Non mi ricordo. No. Non è qua. È il boschetto. Dov'era. Qua. Rifugio, accesso al ponte. Questo è. Ok. No, no. Andrugare la spada. Ma te ne vai a fanno un culo. Ok. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Grazie a tutti. Non ci credo, Cristo Santo non è assaltato, ho premuto non è assaltato, ma vaffanculo, ho fatto perdere tutte le anime, Cristo di un Dio. Sto salto di merda, il tasto del cazzo che non devi, boh, io non lo so, potevano fare un tasto, un L2, R2, no, devi schiacciare quello che ti muovi. Grazie a tutti. 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 Ok, sì, perfetto, ok, ecco qua, però a me indietro da niente, questo ci vende, però per mo' non mi serve, quindi ok, perfetto, riposa, qua bisogna venire dopo. Boschetto del Cacciatore, vedete, questo viene dopo, la valle del raccolto e questo ancora dopo ancora, quindi Boschetto del Cacciatore, accesso al ponte, prigione del non morto, quindi tornando qua, sì, dobbiamo andare là dove c'erano tutti quei personaggi e passare al ponte, quindi partendo da qua, partendo da qua, 13.960 anime, quindi andiamo, Majula, andiamo, gli animelle, Ok, eppure questa qua, gli scheletri che non mi serve un cazzo, perfetto. Ah, ragazzella. Adattamento, per l'equilibrio, equilibrio 5, equilibrio in totale 69, no, quindi 68 e mezzo, 68 e mezzo, 69 e mezzo, ok, quindi, agilità, tempra e vigore, per l'equipaggiamento, ok. Ok, poi, vai, rimetta la clava, va, viaggia, Per giugno dell'uomo morto, Per giugno dell'uomo morto, Mi sfotte l'uomo morto, Sfotto l'uomo morto,